Ciao gente, io sono Giacomo e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Audiomania, la rubrica che va in onda ogni lunedì intorno alle 11, dove parliamo di come migliorare l'audio, il suono e la musica all'interno dei nostri video. Ma oggi no, perché ci sono i risultati del contest. Sigla! Intanto vi ringrazio per la grande partecipazione. Insieme ai Licaoni abbiamo ricevuto e valutato 34 video. Ma prima di darvi il nome del vincitore del concorso, voglio spiegarvi come sono stati valutati i vostri lavori. Abbiamo analizzato tre parametri. 1. La scelta e o composizione della musica. 2. L'inserimento di effetti sonori o effetti ambientali in base a ciò che si vedeva sulla scena. 3. Il voiceover, ovvero la voce fuoricampo. Detto questo ci tengo a precisare che nessuno dei video ha soddisfatto appieno le mie aspettative. Una tirata d'orecchia a tutti. Perché secondo me nessuno dei video è completo sotto tutti gli aspetti. Siete stati dei pigroni. E ora, rullo di tamburio, squillino le trombe, deciderò dopo, per il vincitore. Anzi, i vincitori che sono i ragazzi dei Free Frames. I Free Frames hanno inserito una musica appropriata, un voiceover originale e divertente, anche se dal punto di vista dei suoni avrebbero potuto fare molto di più, come la maggior parte di voi. Avevo pensato di fare un video dove parlavo singolarmente di ogni vostro lavoro, ma mi sono accorto che, visto il gran numero di video, probabilmente sarebbe uscito fuori un lungometraggio degno del maestro Donnini. Quindi metterò la media dei voti di tutti i partecipanti in descrizione e resto a disposizione sia su Facebook che su Twitter per darvi il mio parere personale sul vostro lavoro. In più, in accordo con i Ligaoni, appena avranno sbrigato la pratica del NextUp, abbiamo deciso di dare qualche menzione speciale ad alcuni di voi, quindi rimanete sintonizzati sul loro canale. Bene, spero di non essermi scordato nulla. Ancora complimenti ai Free Frames e grazie a tutti voi per aver partecipato. Per qualsiasi informazione potete cercarmi sia su Facebook che su Twitter. Io sono Giacomo Citro e sicuramente vi risponderò. Ciao!